NCD ancora in cerca di nomina. Dopo il passo indietro fatto dall'ex ministro Lupi, oggi invece le priorità sembrano essere altre. Il nuovo centrodestra ha lasciato il ministero delle infrastrutture occupato da Maurizio Lupi e ha intenzione di rafforzare la propria compagine di governo perché in questo momento noi partecipiamo a questo governo e ci partecipiamo con tutte le forze disponibili. Siamo anche però parimenti impegnati sulle elezioni regionali nelle quali la nostra aggregazione che è quella di area popolare si sta dimostrando un grande punto di riferimento in tutte le regioni, mi riferisco alla Puglia, alle Marche, al Veneto e quindi le nostre energie ora sono concentrate nella compilazione delle liste e nell'ottenimento di un buon risultato alle elezioni regionali. In questo tempo o probabilmente subito dopo delle elezioni regionali ci dedicheremo anche alla sostituzione del nuovo ministro. Dall'altra proprio in questi giorni si dovrà votare per l'Italicum. Tra le novità annunciate nessuno spazio per le coalizioni. Si dovrà votare per le liste dunque i gruppi dovranno cercare unione e compattezza secondo nuovi modelli. Noi abbiamo votato il testo dell'Italicum grandemente modificato rispetto alla prima lettura della Camera, lo abbiamo votato al Senato. Il testo a nostro avviso è un testo equilibrato, certo tutto è perfettibile ma noi sappiamo benissimo che il meglio è il nemico del bene e quindi diciamo che questo testo per noi è un testo che possiamo votare.